L'ambiente sta cambiando, di conseguenza anche la qualità dell'aria. C'è un no secco da parte della Col di Retti al piano straordinario sulla qualità dell'aria predisposto dalla Regione Piemonte. Sentiamo le ragioni. C'è preoccupazione tra gli agricoltori per le limitazioni introdotte dalla Regione Piemonte con il piano straordinario sulla qualità dell'aria. Quando scatta l'allerta arancione o rosso segnalato in seguito alle rilevazioni effettuate dall'Agenzia regionale Arpa Piemonte sono vietate le distribuzioni di fertilizzanti, ammendanti, correttivi, reflui e digestati, palabili e non palabili, contenenti azoto, letami e assimilati, a eccezione delle distribuzioni effettuate con interramento immediato. Inoltre con qualsiasi livello di allerta fino al 15 aprile 2021 sono vietati gli abbruciamenti di materiale vegetale, come ad esempio i rami delle potature o i sarmenti delle viti che proprio in questo periodo abbondano nelle campagne. Coldiretti ha presentato alla Regione Piemonte una serie di richieste per rivedere e alleggerire queste limitazioni che penalizzano il settore agricolo. Nell'intervista Fabrizio Gagliati, presidente di Coldiretti Torino, le ragioni della contrarietà al piano straordinario sulla qualità dell'aria. Il piano che la Regione ha realizzato per la qualità dell'aria ci ha lasciato davvero interdetti e molto contrariati, sia nella metodo che la Regione ha utilizzato per comunicare questo piano, sia nel merito del piano stesso. Il metodo ci ha lasciato un po' sconcertati perché non è possibile non avvisare nessuno, non essere riusciti a creare dei tavoli puntuali rispetto alla questione in oggetto, anche perché le premesse rispetto a una discussione di questo tipo c'erano state, ma con delle tempistiche decisamente diverse. Dall'altra parte nel merito delle soluzioni adottate. Noi siamo consapevoli, accettiamo il fatto che ci possa essere un problema legato all'inquinamento atmosferico, invece non accettiamo il fatto di prendere tutta la responsabilità oppure che la soluzione alla risoluzione parziale o tale di questi problemi passi esclusivamente dall'agricoltura. Gli agricoltori hanno lo svantaggio di occupare una gran parte del territorio dimenticato dei grossi centri urbani, siamo in pochi, occupiamo tante superfici, ci occupiamo dell'ambiente del territorio, siamo i soggetti ideali su cui spalmare quelle che sono le criticità che avvengono in alcune zone. Tutto questo ha portato delle ripercussioni rispetto all'operatività delle aziende agricole, non solo zootecniche, perché il piano è andato oltremodo inspiegabilmente a colpire alcune operazioni culturali indispensabili per la cera agricoltura, questo comporterà indubbiamente una ripercussione rispetto alla qualità del prodotto ottenuta, forse, e nel qual caso ci chiediamo a chi debbano essere attribuiti i danni. Non siamo stati coinvolti in nessuna maniera, per cui decisamente è stato un provvedimento infelice. A favore oltretutto dobbiamo dire rispetto all'attività delle aziende agricole che le nostre aziende non sono responsabili di questo inquinamento, lo sono in una misura minima, noi abbiamo investito tantissimo nei PSR passati, ma anche al di fuori delle operazioni di sostegno all'agricoltura per diminuire gli impatti ambientali, il benessere animale, per cercare di amplificare quelle che sono delle opportunità del mondo agricolo, attraverso il riutilizzo delle fonti di scarto, quindi io porto ad esempio i biogas, piuttosto che alcune soluzioni felici di pianti a metano che permettono di avere addirittura un credito di carbonio rispetto al circuito dell'azienda agricole. Ebbene, a fronte di tutto questo non vediamo davvero la necessità di voler, in un momento particolarmente delicato, ma anche se fossimo in un momento di normalità non cambierebbe la solfa il fatto di voler puntare il dito sulle nostre aziende e dover penalizzare il 95% del territorio agricolo della regione Piemonte. Noi chiediamo alla regione non solo di cambiare passo ma di cambiare idea rispetto a quello che ha pianificato di mettere in atto per la soluzione del problema, di riconsiderare i dati, perché i dati sui quali hanno fatto queste considerazioni sono dati che non collimano interamente con i dati che sono in nostro possesso e che derivano anche da monitoraggi nazionali, quindi sarebbe bene che si ritornasse sui propri passi per evitare che un errore diventi qualcosa di davvero irreparabile.